Un applauso, un applauso, un applauso, un applauso, un applauso, un applauso che parleremo sia di Gomez sia di Salah, che Salah è una grandissima sorpresa e è un grandissimo giocatore anche. Vogliamo dire due parole però sul netto, che era quella che era la partita più difficile ieri e l'ha salvata con quella parata dopo pochi minuti. Sì, ha dimostrato di essere una... Di avere anche sangue e fede.